ciao ragazzi eccolo un regalo io mi ne vado allora buttala via allora io ti apro uno vediamo cosa sono sono i molusi spinner patti tada pom quanti sono giallo viola verde blu blu azzurro blu azzurro secondo te no blu rosso rosa vediamo 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 qualche aperto già eh l'ho aperto io no l'avevo aperto uffa qua c'è la storia la storia delle trottole qui c'è un'altra storia come fa una trotto a stare in piedi è vero c'è scritto tutto come si fa poi ci sono i nomi fammi vedere che è la gialla vuoi vedere come gira vuoi vedere come si chiama lovey oh ma non gira così aspetta devi girare lì così no aspetta guarda fammi girare a me uffa quasi ecco no un'altra volta dai 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 oh così perfetto questo si chiama lovey perché c'ha i cuoricini come moj perché non si apre ma si deve aprire te prova ad aprire quel scotch vai io faccio vedere intanto ai ragazzi che abbiamo ancora e tu che faccia fai così felice così che fai l'occhiolino così con i cuoricini che abbiamo ancora qua felice e qua invece proprio amore amore e la tristezza uffa qui puoi colorare il disegno il giochi di trotte qua le trova sei differenze deve trovare le differenze tra i disegni e qua c'è il disegno della prossima trottalone amoroso ti ho ucciso no fammi vedere cosa c'è dentro dai non le ho mai toccate dai io apro l'altra no si si io apro l'altra uffa dammi non c'è da nessuna facciamo il gioco dobbiamo fare il gioco sai cosa voglio fare voglio trovarle tutte sei troviamole tutte le troviamo tutte Alex si dobbiamo trovare questo l'abbiamo già trovato l'abbiamo già trovato mettilo qua dai che voglio trovare altre aspetta ma qua devi metterlo è freddissimo è tutto merendo ma si tolge i pezzi davvero dobbiamo aprirne un altro dobbiamo trovarle tutte sei Alex apri tu uno io una vai tieni tu troviamo tutti i colori e il gelato è un gelato oh guarda 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 che colore che ho trovato io questo è come si chiama è stupido nicer perché è nicer sempre felice vuol dire non esce wow io voglio aprire questo uff, 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 uff ok così lo rimetto indietro ok ne abbiamo trovato ma te non hai aperto? no per adesso abbiamo il giallo che si chiama lovi non lo posso aprire chiudelo no questo è lovi questo è lovi questo è lovi oh no è questo questo è il smiley senti basta scoreggiare scoreggione no tu indivina che colore ho trovato indivina? viola no ancora che bello questo è Maddy sta Maddy guarda com'è felice con gli occhi a stella guardate che bello si tienili là che colori mancano? dimmi un po' che colori mancano? questi sono vuoti dimmi che colore manca abbiamo rossa abbiamo rossa azzurro azzurro viola e verde manca vai ma puoi aprirla ok apro io e i tuoi giochi va bene? ok speriamo indovina un po' oh 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 ho trovato uguale oh oh gioca anche con questa quindi ho trovato la Maddy non voglio la Maddy io voglio trovare Nice guarda va bene? wow girano tutti una sta per cadere indovina indovina una sta per cadere guarda Alex tada una sta per cadere già morta una morta kissy un smile che manda il bacino no sono morta e noi manca l'ultimo vero? abbiamo il verde il rosa il rosso giallo manca azzurro e viola perdiamo questo si che piange che bello si ma piange rosa 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 guarda è morta ma ha riso così tanto che ne vengono l'ottime e anche lui è morto e anche lui è morto ma io voglio toccarne uno no allora io trovo l'ultima è rimasta la viola penso che è qua no non fare così li distruggi li uccida tutti uffa no giallo ciao ciao fratellina abbiamo trovato il fratellino di lovi a noi manca il viola vediamo questo uè ma il fratellino semito anche tu vuoi il fratellino ma io ho trovato la sorellina per la nostra smiley sì anche lui che bello vediamo 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 qua sì anche il tuo che belli che sono ma io uffa dai dai vediamo qua vediamo qua tadam tadam no purtroppo ho trovato un altro no questo non ci serve questo non ci serve però è sempre bello come si chiama si chiama Mandy hai visto che bello a noi manca il viola che bello invece no tadam chi è chi è chi è è quella che è nice allora li abbiamo trovati mamma mia fratellino è anche mio oh oh e basta sono finiti hai visto noi abbiamo persi tutti quanti guarda quanti ne abbiamo io voglio giocare con questo oh hai visto tutto così guarda cosa ce l'ha guarda cosa ce l'ha oh guarda qua guarda qua tortill vajam oh mamma mia che schifo la tortill ti piace grazie a te la metto tutta così così come la torta in faccia oh oh ma non si stacca no si stacca si stacca è Alex era Alex oh oh Alex adesso no facciamo un giochino dai ci mettiamo le squadre io prendo le ragazze prendo le rosse e la rosa e la viola e anche questa e anche rossa io ne ho sei e te quanti ne hai anche tu le hai no adesso sono i maschi allora io prendo quelle gialle no voi siete di più non è vero siamo stai anche noi 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 siamo uguali siamo pari no iniziamo a girarli a 3 allora prima i due 1 2 3 via 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 wow 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 guarda di bello wow le mie stanno vincendo no 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 wow 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 ragazzi se il video vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi al canale aspetta sì sì invece io ho vinto io ho vinto ho vinto mettete tanti tanti mi piace ciao ragazzi ciao ciao ciao